ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video con le risposte ai vostri commenti come al solito commenti con solo bel video bell'esplorazione o cose del genere considerate come se avessi già risposto a tutti grazie a tutti e il primo commento di oggi è di dida sotto al video con i nuovi regolamenti per il mio gruppo su facebook urbex and mystery bravo i video pubblicità di più tardi uscirà un video non li ho mai capiti però ogni tanto devo fare due parti perché superano le due ore ed è un po troppo prima riuscivo a tagliare 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 ma ora riesco sempre meno e ma vedi un video di due ore l'avevo anche detto se è un video così più lungo lo di in due parti è un conto va bene ci sta ma quelli che fanno il video di un'esplorazione 25 minuti 20 25 minuti mezz'ora quando è tanto e riescono a dividerlo in dieci parti o ma non esiste questo tra l'altro ti fa anche passare la voglia di vedere un'esplorazione così dover aspettare più giorni per vedere tre quattro minuti alla volta ma che senso ha e quelli che emettono le pubblicità uscirà domani uscirà oggi allora tal dettaglio uscirà il video quella è pubblicità però non è giusto perché se uno vuole fare la pubblicità come in tutto il mondo paghi paghi se non vuoi pagare la pubblicità anche io metterò metto a volte domani uscirà questo video prossimamente ci sarà questo oppure domenica sarò al mercatino però lo metto sulle mie pagine sul anzi solo sul mio profilo personale nel gruppo neanche lo metto la pubblicità perché quello vorrebbe dire togliere spazio a tutti gli altri che invece si impegnano tra l'altro io avevo studiato proprio come pubblicitario quando andavo a scuola ho lavorato un po e poi ho smesso perché non riesco non riesco a bindolare la gente occupare spazi farevo non è una cosa che mi piace e tu mi chiederai ma allora perché sei andato a fare quella scuola perché mi piaceva disegnare poi sempre sotto lo stesso video c'è il commento di enrico vedo che sei rimasto vittima di chi si fa bello col lavoro degli altri che tristezza ps rido per non piangere guarda non è la prima volta che mi capita mi era capitato un po di volte la volta più clamorosa è stata qui a legnano quando per farsi bella la parrocchia di san magno ha usato foto che avevo fatto io del castello di legnano dicendo che le aveva fatte il parroco bella roba io gli ho telefonato gli ho minacciati di brutto di togliere tutto o di mettere il nome e pagarmi o se no riportavo in tribunale o ha tolto subito tutto però poi non sono degnati di chiedere scusa però l'importante che abbiano tolto tutto poi c'è il commento di francesco giusto così purtroppo c'è sempre chi si approfitta della troppa libertà le regole che introdotto sul tuo gruppo come giusto che sia sono necessari per mantenere un certo ordine oh yeah è solo tuo marco che non è capace almeno di trovarsi una sua frase o intro già da un'immagine imbarazzante a mio dire sì è detto giusto le regole le ho messe per tenere un po di ordine per non fare troppa confusione nel gruppo sennò poi non si capisce niente e chi visita il gruppo gli passa anche la voglia di visitarlo di vedere cosa c'è perché ci sono tutte pubblicità e poi ti passa la voglia e la faccenda del oh yeah e via verso un'altra esplorazione cose così poi boh non è che io abbia il copyright però sono frasi che mi sono inventato io anni fa tanti anni fa e visto che i miei video sono abbastanza conosciuti e vedendo che chi usa queste frasi poi è proprio chi vede i miei video cavolo un memo di fantasia poi sempre sotto lo stesso video andrea commenta sono d'accordo con te e hai fatto benissimo a mettere nuove regole certo che queste persone non hanno rispetto del lavoro altrui per non parlare dei cialtroni che mettono il k2 fanno conversazioni con presunte entità come fossero ad una riunione di condominio e chiamarsi urbex su ttok non è pieno di questa gente e c'è purtroppo chi dona e guadagnano con puttanate del genere per quanto riguarda il post identico cioè davvero un briciolo di fantasia mancava solo che scriveva oh yeah ed era una copia in colla bello e buono al che max risponde il post l'ho messo io sul mio profilo ho anche scritto in privato a marco dicendogli che il suo neanche l'avevo notato prima se non più tardi e che probabilmente abbiamo pensato la stessa cosa sono una persona corretta e alcuni iscritti al canale di marco lo possono confermare tra l'altro ho sempre rispettato il lavoro di marco e non ho intenzione di cambiare idea proprio ora ed i da replica max ora che so che sei stato tu ho capito perché ti conosco bene e non andresti mai a copiare il solo fatto che fai urbex stavi partendo e c'era nebbia fa venire quasi per scontato quella frase non sempre bisogna vedere ciò che non c'è e nel tuo caso non c'è e forse un paio d'anni fa l'ho scritto anch'io se ricordo bene penso che ora vi siate capiti e chiariti allora rispondo con ordine andrea lo so che si quelli che fanno i video farlocchi lo ho detto anch'io i video farlocchi ridico con quelli che fanno il seguimento scappano e c'è gente che gli fa le offerte perché se vai a vedere poi quelli che fanno le offerte la maggior parte sono tutti ragazzini che si prendono la carta di credito dei genitori e gli fanno l'offerta e per la faccenda del via verso un'altra esplorazione andiamo avanti e rispondo a max guarda il mio non l'avrai neanche notato però sono anni che leggi i miei e via verso un'altra esplorazione quindi non l'hai visto quella volta l'hai visto altre volte e quindi boh non è una scusa ci ho pensato mi è venuto così no perché sono anni che vedi e via verso un'altra esplorazione scritto da me quindi non puoi dire mi è venuto così abbiamo pensato la stessa cosa coincidenza e per dida che tu dici e via verso un'esplorazione con la nebbia nebbiosa va bene se esprimi il concetto con parole tue ma se ripeti proprio esattamente le stesse parole che ho scritto io mezz'ora prima questo fa pensare un po poi potete dire quello che volete va bene scusa accettate non è stato fatto apposta però qualche dubbio sorge e sempre sotto lo stesso video c'è il commento di alberto ti dico come ho scoperto la voce con un programma pc si chiama ultimate vocal remover ti lascia le tracce voce o gli strumenti ah lo conosco quel programma però non si può fare un lavoro preciso con quello perché quello lì toglie all'ingrosso non non verrà mai per esempio o estrarre una voce non verrà mai la voce pulita 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 come se fosse solo la traccia di registrazione di una voce su una registrazione multitraccia lì si sentono sempre sotto degli artefatti che sono i rimasugli degli altri strumenti di tutta la musica e quindi un software così non va bene per fare lavori per per sentire quello che c'è davvero nelle registrazioni perché ripeto si formeranno sempre degli artefatti causati dal software stesso e passiamo i commenti sotto all'ultimo video con le risposte ai vostri commenti e il primo è di andrea per fortuna la muffa non è ancora presente è possibile che venga nel tempo però dato che purtroppo abito nei casermoni popolari degli anni 60 con impianto centralizzato e termosifoni mai cambiati negli anni ottimo allora è lucido che ha una doppia funzione mamma mia quel taleggio che fame lì che fa venire solo dalla foto aspettiamo il video oh il video l'hai visto e come hai visto ho fatto anche quell'assaggione del mont brie blu avevo detto anche anche quello sarebbe durato almeno fino a natale invece non ho resistito e che buono che è e per la muffa sui muri guarda che ci sono dei prodotti da spruzzare che funzionano bene sono degli spray antimuffa proprio apposta da spruzzare sui muri e funzionano bene io speri sperimentato in alcuni angoli proprio qui in cantina dove c'è la doccia che va su l'aria calda sframuffa ecco sono riuscito a togliere tutto poi c'è francesco che scrive a 9 25 confermo il piemonte pieno di luoghi abbandonati anche strani o misteriosi a volte al minuto 12 26 sì è vero con un posto così bello ci sarebbero delle idee carine da poter sfruttare ma ovviamente preferiscono che le cose marciscano sì il piemonte bello e infatti avrei tanta voglia di girare i posti in piemonte solo che cavolo anche se non andare in autostrada ma costa cinque volte tanto che in lombardia ma costa il piemonte però ci verrò presto e la faccina delle costruzioni che non vengono sfruttate per farci qualcosa per riutilizzarle è vero è qua in italia lasciano marcire tutto perché c'è una mentalità del cazzo lasciano dire c'è proprio una mentalità del cazzo almeno tra chi costruisce tra chi ha sempre costruito e che invece di ristrutturare una cosa così ma anche le gestioni non solo si costruisce perché chi costruisce ci guadagna lasciamo marcire invece di ristrutturare tirano giù e ricostruisce da nuovo ci guadagnano di più ma poi anche i gestori delle località tipo i sindaci o chi ha in mano la gestione del territorio e i proprietari delle case vedo queste cose io se avessi fossi stato il proprietario di una casa abbandonata di un posto storico ma cavolo lo rimetto a posto ci investo una barca di soldi ma ci faccio un museo magari gli italiani non ci va nessuno ma sono sicuro sono sicurissimo che verrebbero dall'estero stranieri soprattutto inglesi tedeschi per vederlo e è gente che paga paga e infatti vedo che in inghilterra anche in germania come avevo già detto ma in inghilterra ci sono posti che ci campano magari c'è l'antica casa del contadino sperduta in mezzo alla campagna neanche se che c'è ti fermi vedi e paghi per entrare che poi magari sono due stanze e basta all'estero con questo sistema ci campa la gente e tengono da conto posti storici in italia no poi c'è andrea che sotto al video della pagaiata da ischia napoli in kayak commenta veramente dei grandi posti e in certi punti viene davvero da berla quell'acqua così bella limpida ah ecco i signori di cui mi parlasti sul restauro del castello di legnano tempo fa sono d'accordo che la gente di napoli sia molto cordiale ed ospitale però credo che ci siano differenze tra i napoletani veri e quelli che stanno al nord con cui ho avuto e ho tuttora alcuni problemi non da poco esperienza personale in ogni caso è stata una bella esperienza per caso c'è qualche differenza pagaiare in mare piuttosto che nei laghi sì è stato un gran bel viaggio peccato che si sia interrotto come si è interrotto a napoli senza finire il giro fino a capri magari un giorno ci tornerò e la differenza fra pagaiare in mare e pagaiare sul lago per il pezzo che posso dire io che ho pagaiato in mare lì se l'acqua è tranquilla pagaiare in mare è come pagaiare su un lago su un lago tipo grosso tipo il lago maggiore perché su laghi più piccoli invece c'è l'acqua proprio più piatta e non c'entra proprio niente col mare però c'è una differenza che va oltre è una differenza mentale perché quando sei sul lago vedi sempre la sponda da una parte la sponda dall'altra a meno che non sia un lago immenso però anche per esempio sul lago maggiore vedi sempre da una parte all'altra quindi ti senti più sicuro perché sai quando magari sei in mezzo al lago ti ribalti però vedi la sponda a nuoto ci vai se proprio dovesse affondare il kayak invece quando sei in mezzo al mare ti guardi attorno e non c'è niente c'è il nulla si vedi l'isola dove vieni alle spalle all'orizzonte e vedi quella dove devi arrivare all'orizzonte e attorno non c'è nient'altro in nulla e lì boh quando sono andato i primi momenti ero lì che dicevo ma sto facendolo a cosa giusta mi fido poi è arrivato più o meno a metà attraversata yeah figata devo andare avanti a farlo perché boh ti carica una cosa che ti carica sotto al video dell'esplorazione a villa sebregondi massi commenta complimenti per l'esplorazione il racconto storico dettagliato riguardo a questo gioiello ormai fatiscente ma suggestivo a pochi chilometri da casa mia mai visto ne hai preso in considerazione e per il coraggio che hai avuto visitarlo in solitaria ma guarda racconto storico io tutte le volte che faccio un'esplorazione cerco sempre più informazioni possibili perché mi sembra il minimo se no cosa anch'io anche per me non solo perché guarda il video ma anche per me cosa sto andando a vedere dove sono e mi interessa e penso che sia più bello sapere cosa si sta vedendo piuttosto che no e per quanto riguarda il coraggio boh non so alla fine coraggio ce ne vuole di più andare magari mezzo alle rapide col kayak che andare in una casa abbandonata sotto il video dell'esplorazione alla mtm dirò anna scrive eravamo 700 operai io ero tessitrice dispiace vederla così e ci credo ma sai quanta gente che ogni tanto scrive che vede i video delle fabbriche dove lavorava a tutti dispiace e infatti se c'è passato tanta parte della tua vita sì capisco il dispiacere e arriviamo ai commenti sotto al video dell'assaggio del taleggio del monte bronzone il primo è di alberto mamma mia che fame mi hai fatto venire è un peccato che dal video non puoi passare un pezzo per assaggiare anche con noi buono formaggio di tutti i tipi è buono sì e guarda già solo l'odore è una cosa che tinebria il sapore poi e mi piacerebbe poterlo passare poi sarebbe bello tra uno e l'altro uno assaggio una cosa o uno assaggio un'altra per si fanno gli scambi tramite internet magari un giorno la tecnologia ci arriverà ma fantascienza però sarebbe bello poi c'è andrea che scrive chissà che profumo che sapore basta vedere la tua reaction per immaginare grazie per l'informazione che si può trovarlo all md quanta differenza c'è tra quello che trovo fresco e questo stagionato sapore più deciso e crosta più saporita proprio ora mi trovo in francia e devo per forza cercare quel blu la differenza tra quello fresco e quello così stagionato è come per tutti i formaggi si aumentano i sapori siccome l'acqua se ne va invecchiandosi l'acqua evapora se ne va viene persa tutti i sapori vengono più concentrati vengono accentuati e cavolo è tutto più buono sì si indurisce anche perché appunto andandosene via l'acqua tutta la morbidezza che aveva all'inizio diventa più duro in effetti stagionarlo troppo il taleggio avevo visto oltre i due mesi non va bene perché poi diventa duro come il grana e boh un po più morbido è meglio però ecco tra uno e due mesi quella stagionatura ma che buono che viene ti ripeto viene più saporito più denso tutto tutto più ha tutto moltiplicato all'ennesima potenza poi c'è andrea ma un altro andrea non lo stesso di prima che scrive marco sto guardando questo video alle 22 ho già mangiato mi hai fatto venire fame ottimo vedo sempre i tuoi piatti su facebook sei in gamba cucinare tanta passione io non ho passione a cucinare non hai passione a cucinare male male invece è bellissimo cucinare e poi assaggiare mangiare quello che hai cucinato e magari condividerlo con altri ti assicuro che se viene bene da tante soddisfazioni poi il primo andrea quanti andrea che siete per ora solo due ma ogni tanto ne compare qualcun altro comunque sotto al video della lavorazione del pendente sinuoso di statite commenta ma che bel lavoro tutto di precisione e fatto esclusivamente a mano non immagino quanto abbia impiegato per farlo grandissimo grazie guarda veramente questo qui è stata una cosa abbastanza rapida perché non è così difficile da fare ci sono lavorazioni molto ma molto più difficili e arriviamo ai commenti sotto al video con l'ultima esplorazione a villa de verre il primo commento è di davide che scrive alti livelli come sempre grazie e poi sempre da solo addirittura alti livelli grazie però ecco anche a te te lo dico sempre da solo no a parte che questa volta saremmo dovuti andare in due ci sarebbe dovuto venire anche davide però come al solito io sono un pirla perché l'esplorazione le decido all'ultimo momento quando gli ho detto andiamo 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 lui aveva già altri impegni e alla fine sono andato da solo però ecco non è che ci sia sto gran coraggio e poi ho già detto anche altre volte che io nei posti abbandonati così diruccati fatiscenti mi ci trovo a casa mi ci trovo bene anzi più sommarcioni e più mi piacciono più più mi dicono entra entra vieni quindi boh non questa cosa che mi dite in tanti e che coraggio andare da solo boh grazie ma non mi sento così coraggioso poi c'è il commento di andrea ciao marco villa con vista sul lago stupenda penso che non la recupereranno mai penso anch'io perché ridotta come ridotta 350 mila euro è vero che c'è il parco immenso annesso però lì la villa andrebbe tutta demolita quindi pagare quei soldi per il terreno e poi dover demolire quello che c'è sopra per poter ricostruire boh non so chi la comprerà se la compreranno poi ci sono i commenti di francesco uno dei restauri più brutti mai visti sicuramente eseguito negli anni 50 ma la villa perlomeno era bellissima sicuramente quando la marchesa era viva la torre secondo me era accessibile prima del brutto restauro che hanno fatto comunque bella esplorazione la villa non è per niente messa bene sì hai ragione il restauro che hanno fatto è stata proprio una schifezza perché non hanno lasciato niente di storico hanno pittato le pareti di bianco come appunto facevano negli anni 50 che coprivano tutto che bello abbiamo fatto la casa nuova l'abbiamo rinnovata adesso è moderna ma con tutto quello che c'era di storico lì da lasciare magari c'erano anche pareti affrescate disegni e invece hanno coperto tutto e ora che mi ci fai pensare è vero magari nella torre si poteva accedere si poteva salire poi hanno fatto i restauri e ci hanno messo un cesso al primo piano della torre un cesso di così vabbè passiamo al commento di andrea che bel luogo in generale chissà com'era bella la villa ai tempi essendo pure con la vista sul lago certo 350 mila euro per come ridotta malissimo e con la ferrovia che passa a pochi metri dubito che qualcuno l'acquisterà un vero peccato ma come funziona esattamente la meridiana l'ho vista in parecchi edifici antichi e mi era stato pure spiegato ma l'ho dimenticato totalmente sempre belle e interessanti esplorazioni marco oh yeah sì è vero oltre al fatto che è tutta diloccata la villa ci passa di fianco anche la ferrovia quindi è un altro elemento in più per far evitare l'acquisto da chiunque e la meridiana è una cosa semplicissima vediamo se trovo una penna una matita ecco qua allora c'è un palo può essere sia verticale la meridiana originale erano quelle greche di 2.500 3.000 anni fa palo numeri scritti a terra con le ore e a seconda di come si alza il sole di come gira attorno lascia l'ombra e l'ombra ti indica l'ora ti indica che ora è poi hanno iniziato a fare le meridiane sui castelli sulle ville come quella lì la meridiana col palo sulla parete il palo in orizzontale e lo stesso il sole passa di sopra e ti lascia l'ombra sulla parete con scritte le varie ore in pratica è un orologio che va con il sole e arriviamo all'ultimo commento di oggi che è di dj henrads che scrive solo marcioni di qualità grande marco grazie ma solo marcioni è vero a me piacciono tanto i marcioni però hai scritto tu di qualità più che altro marcioni ma che hanno dietro almeno una storia interessante bene per oggi questo era l'ultimo commento prima di salutarvi vi ricordo che domenica primo dicembre quindi dopo domani sarò con la mia bancarella per primo mercatino di natale al parco della contrada vagina a canegrate in via garibaldi 114 il mercatino sarà dalle 10 di mattina alle 18 quindi se dovete fare qualche regalo di natale originale diverso dal solito venite a canegrate al mercatino di natale e lì ci sono anch'io tra tutte le bancarelle perciò vi aspetto intanto continuate a seguirmi sul mio canale youtube to speed se non siete ancora iscritti iscrivetevi così mi aiutate a far crescere il canale iscrivetevi anche ai miei gruppi facebook urbex e mystery dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni e viaggi in kayak dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak date un'occhiata sempre su facebook alla mia pagina to speed artigianato dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, legno e metallo e vi do appuntamento al prossimo video oh yeah